Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati in questo nuovo video Fiocco è un monte Voi vi chiederete... Fiocco no! Ok, ha aggiustato tutto Vero Fiocco? Voi vi chiederete perché sono vestita da Elsa? Beh, perché tra poco è carnevale O meglio, è carnevale E mi sono vestita da Elsa Così un po' più... Dato che a me piacciono le feste Voglio anche farle le feste divertendomi Ecco, bravo, lo so, ma l'ho preso Bene, oggi io andrò a insegnarmi come fare il popcorn in un minuto? Trenta secondi? Chissà quanto sarà E magari un giorno, o anche in questo video Noi questo qui bisogna chiuderlo Se no i popcorn volano come una fontana Ma noi magari un giorno li faremo volare Beh, questo sarà uno dei grandi sogni Però... Bene, adesso è arrivato il momento di provare questa macchina Che credo che funzioni, almeno spero E con questi popcorn si possono fare tantissime cose Si può andare al cinema O si può vedere il tabletto, il computer, un film alla tv con i popcorn Infatti mettete un minuto per fare i popcorn e poi andate lì subito e ve li gustate O se no anche per delle feste La giova anche dei bicchierini Però adesso proviamo la macchina Credo che possono bastare Che profumo di mais Vabbè, allora Adesso accendiamola Adesso si sta scaldando È caldissimo Oh, si sta scaldando Oh, che benessere Il benessere della vita Poi un giorno immaginatevi questo Che... Tutti i popcorn che volano E noi che li prendiamo Un sogno bellissimo Troppo buco di popcorn Ok Si, stanno facendo i popcorn Apriamo? No, sai Diocco! No Credo che gli piaccino Diocco, ma ti si appiccicano tutti i denti Assaggiamo Dopo però bisogna metterci il sale Perché Se no Non hanno gusto Sapete che sono buoni anche senza sale? Però Noi vogliamo anche assaggiarlo col sale Perciò Sale Appari in 3 2 1 Appari! Dove è finito il sale? Ah, è apparso qui dentro Perfetto Quindi è un buon segno Di mettere il sale Oggi credo che mi vedrò un film Ragazzi Io ho detto che lo faremo un altro giorno Ma Che ne dite se lo facciamo ora? Volare in aria Bene, bene, bene Se succede qualcosa Scoppia o qualcosa E' tutta colpa mia E' tutta colpa della mia pazzia E della pazzia di Fiocco Ok, ok, ok 1, 2 Iaai Iaai Poi quando cominceranno a volare Di Anche un po' con le mani Tanto questi popcorn O se li mangio a Fiocco Perfetto Te non ci servi 3 2 1 Vediamoci lo spazzatolo Con i popcorn Aspettiamo Mamma 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 C'è mio Sì Sì Sta succedendo Giampa Non mangiarli Io sarò troppo Sì 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 Bene Non è Pensavo che Volassero Però è stato divertentissimo Ragazzi Io Vi avevo detto Che li farò volare Popcorn In aria Perché lo metterò in coperchio Uno Uno di questi giorni Ma no Ma no Ma no Ma no Lo faremo Ora Bene Bene Sono troppo Curiosa Di vedere Cosa Succede Ah giusto Ci vuole Ci vuole Quello Me l'era scordata Allora Allora Chissà cosa succederà Perfetto E Three Two One Go Per ora Niente Si sta scaldando Scusate Ma non vola Ma Si sta scaldando Volasse Eccoli Ecco il primo Wow Ecco Uno è volato No No Troppo Uno No 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 Ok, ok Allora, bisogna farlo uscire Bisogna farlo scoppiare Bisogna farlo Bisogna farlo Cadere tutto Ok Inizia Vai Sono tardissimi Ah, caldo Questa può funzionare Ragazzi Noi abbiamo visto che i pop corn Si fermano qui ai margini Ma che ne direste Di levare anche questo coperchio E far volare Vedere se volano, volano, volano Volate per favore Nel cielo Dai Non c'è nessun coperchio Volate Ecco Inizia Si, inizia Volate, volate, volate No, non cattate Volate Non volano Abbiamo capito Abbiamo capito che non volano Ok In questo momento Calmati No Mamma mia E io pensavo che era finito Mi sono anche la spuola Ecco questo lo potete usare per fare gli scherzi Bene Io direi che questi pop corn Dato che domani vado al carnevale di Viareggio Questi pop corn Basta usarli per lanciarli alle persone Per fare degli scherzi Per buttarli Credo di farci anche un video E potrò prendere questi pop corn Tirarle addosso alle persone Bene ragazzi Ce l'ho anche dentro le ciabatte Oddio Ragazzi sono piena Sono piena di popcorn Bene Aspettate 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 Questo È il miglior carnevale Di sempre Tioco Ancora questi pop corn Bene ragazzi Se anche voi Volete questa macchina Questa macchina di pop corn Potete prenderla Il link in descrizione E Iscrivetevi al canale E lasciate dei Pollicioni In su E ciao Ci vediamo al prossimo video Ciao E per ogni festa Che si rispetti E arriva anche il momento In cui bisogna Ripulire Ciò che abbiamo fatto Ciao Completi Ed Grazie a tutti.